Nel 2012 ho vissuto per un mese da solo nella grotta del Pilocchio, nel Monte Pellegrino a Palermo, a circa 25 metri di profondità. La grotta era sempre al buio, la temperatura costante a 18 gradi e l'umidità al 100%. Io non avevo orologio, computer o altri strumenti per misurare il passare del tempo, e per fortuna. Perché tutto questo? Per vivere un'esperienza in assenza di tempo, come la definì il grande speleonauta Michel Siffret, a cui mi ero ispirato quando ho organizzato questa esperienza. Ovviamente non sono mancati i casini, ci sono state invasioni di insetti, un terremoto, ho avuto le allucinazioni, ho vissuto momenti molto intensi, ma dopo 700 ore di solitudine sono uscito a vedere le stelle. Ebbene sì, 700 ore in solitario all'interno della grotta del Pilocchio nel Monte Pellegrino a Palermo. Questa è la storia che vi racconterò oggi, una storia un po' particolare, lo ammetto, perché non sempre si sente parlare di persone che hanno vissuto nelle grotte. Sebbene ci siano questi esempi nella storia, questo è stato un po' il mio esperimento, esperimento narrativo, non tanto scientifico, che ho fatto appunto nel 2012. Ve lo racconterò sia per quanto riguarda l'organizzazione, molto importante di questo esperimento, sia anche per appunto tutta la parte psicologica di come ho vissuto questa esperienza molto particolare, che per quanto non sia un'esperienza unica nella storia, comunque per me è stata molto importante, molto formativa. Nel frattempo se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, mettete like al video, è un supporto che per me è molto importante, mi permette di continuare a creare contenuti di questo tipo e partiamo. Da dove nasce l'idea di vivere un mese in una grotta? Era il 2011, fine 2011, io facevo il volontario nel soccorso alpino e speleologico a Palermo. Quindi il mio lavoro era seguire in alcune operazioni il CNSS e documentare quello che succedeva. Cioè solo successe un po' di tutti i colori, è stato veramente un'esperienza formativa, anche perché questa qua è veramente gente super competente, super formata. Io avevo letto in quel periodo di Michel Siffret, il primo speleonauta, il primo geologo e speleologo, che oltre ad aver fatto una serie infinita di esplorazioni in Europa, in grotte in Italia, in Francia, in tutto il mondo, era diventato famoso per i suoi esperimenti fuori dal tempo. Cioè delle permanenze in solitario, in isolamento, all'interno di grotte, spesso molto profonde, per capire come influisce sul corpo umano l'assenza di tempo, quindi intesa come assenza di sole o di riferimenti temporali, quindi di orologi. E lui ha fatto degli esperimenti da due a sei mesi all'interno di alcune grotte e nel suo caso addirittura lui provò anche a fare degli esperimenti quando era già più grande, più avanti negli anni. Ovviamente quando ho cominciato a parlarne con i miei colleghi mi hanno preso un po' per scemo, nel senso, ma perché? Cioè, chi trova a fare? Soprattutto è possibile organizzare questo genere di cose in Sicilia? Nessuno l'aveva mai fatto, anche lo speleologo più, diciamo, più esperto di tutti non aveva passato più di qualche giorno sotto terra, magari in operazioni tra l'altro di soccorso o comunque con dei turni. Quindi c'era un po' di scetticismo nell'aria, ma trovai anche per fortuna delle persone molto entusiaste che decisero di supportarmi e quindi di capire intanto la fattibilità. Non era assolutamente da sottovalutare l'aspetto organizzativo, le autorizzazioni da chiedere, la scelta e la preparazione della grotta. In Sicilia abbiamo tantissime grotte, ma anche molto, molto grandi, però questo esperimento doveva essere fatto comunque in sicurezza, perché dovevamo preparare comunque la grotta in modo che fosse sicura, tranquilla e che la mia permanenza all'interno dell'ambiente ipogeo non impattasse l'ecosistema in cui appunto io mi trovo ospite. Parlando con il mio amico speleologo Marco Nicolosi, vennero fuori due grotte, quindi due opzioni papabili, diciamo così, per fare questo esperimento. La prima, molto grande, ma un po' lontana da Palermo, era quella del coniglio morto. L'altra, più piccolina, ma molto vicina a Palermo, vicino a una strada, era quella del pidocchio. Sinceramente, tra tutte e due, adesso non so cosa avreste scelto voi, ma io ho scelto guardare il pidocchio, anche perché guardare il coniglio morto, cioè ci dovevo vivere un mese, insomma, mi sembrava un'associazione un po' esagerata. Rimaneva il fatto che io non avevo fatto ancora un corso di speleologia, non sapevo quanto tempo sarei dovuto rimanere sotto terra per dare un senso a questo esperimento e soprattutto non ero mai stato appunto in una grotta, soprattutto nella grotta del pidocchio. Con Marco Nicolosi decidemmo quindi di fare un piccolo corso di speleologia per me, che mi mettesse in grado appunto di essere autonomo, per esempio, di calarmi all'interno della grotta del pidocchio e quindi andammo a vedere cosa è questa grotta del pidocchio. Vedete, sono in una clessidra qua, ma c'è modo che crolla qualcosa e rimanere sotto per sempre? Tu sai, noi siamo su un crollo. Va bene. Cioè, vedi qua, in qua c'è due di terreno, fatto è stabile. Ma è un crollo. Ma non è altro che una serie di massi incastrati. Bene, esatto. Devo dire che l'ingresso nella grotta del pidocchio fu non privo di dubbi per me, perché l'aria della grotta è veramente pesante. È un'aria piena di umidità, un'aria molto umida, l'umidità al 100%, la temperatura è circa 18 gradi, è tutto pieno di fango, è molto bagnato come ambiente e soprattutto la grotta del pidocchio è una grotta che intimorisce abbastanza se non hai mai visto una, perché è un pozzo, è una specie di clessidra, da cui si accede da un buco molto piccolo, si entra appunto in questa clessidra, più o meno a 25 metri c'è un primo salone, un primo campo calpestabile, poi ci si può calare ulteriormente in fondo alla clessidra dove c'è un salone molto bello con delle concrezioni molto interessanti, ma presenta delle sacche di CO2, quindi non è un posto in cui si può organizzare il campo. Invece il salone intermedio era un bel posto per organizzare il campo, diciamo bello, comunque si poteva così pensare di prepararlo in maniera tale che fosse vivibile e nasciutto tra virgolette per il tempo che mi serviva. Parlando con altri speleologi venne fuori che il tempo minimo per fare un'esperienza fuori dal tempo avrebbe dovuto essere almeno di un mese. Scelsi quindi di stare nella grotta del pidocchio e di starci per un mese. La preparazione del campo ovviamente non fu facile, ho dovuto ovviamente coinvolgere altri speleologi, altre persone, ho dovuto trovare qualche soldo per comprare attrezzatura perché il campo andava comunque preparato, non potevo vivere semplicemente nel fango per un mese, dovevo crearmi una piccola zona abitabile, non impattare la grotta per esempio accendendo fuochi oppure lasciando i miei escrementi all'interno della grotta, quindi doveva essere organizzata anche una latrina, un sistema di rifiuti comunque da sigillare, da impacchettare e di conseguenza bisognava anche mettere in sicurezza la grotta perché essendoci un altro pozzo poco sotto quello che appunto era il mio accampamento, io non mi dovevo trovare nelle condizioni di brancolare nel buio a un certo punto magari la notte o andando in bagno o quello che fosse, magari cadere nel pozzo sottostante e quindi sfracellarmi al suolo. L'idea fu quindi di chiudere la zona in cui abitavo con delle reti da pollo, praticamente da pollaio, non da pollo, mettere un telo, un tarpo, un telo di plastica sopra il campo in maniera tale che insomma avrei avuto quantomeno una protezione dalle gocce dello stilicido della grotta, quindi non mi sarei bagnato più di tanto. La cosa fondamentale fu mettere per terra una specie di tappeto di plastica che era appoggiato su dei tavolacci di legno e su una rete da polli anche lì per rendere calpestabile e asciutto la mia porzione di campo dove vivevo che era comunque molto piccola, erano più o meno 6 metri quadrati, tutto fu fatto e preparato in modo abbastanza anche improvvisato ma sempre diciamo col cervello. Rimaneva un problema fondamentale che era quello della comunicazione. Era un esperimento ovviamente di isolamento, però anche Michel Siffray aveva dei collegamenti telefonici per esempio con la superficie per dare tutta una serie di informazioni sul suo stato psicologico anche nel caso di emergenze varie che potevano essere anche degli incidenti, dei ferimenti. Io avrei fatto la stessa cosa perché ero all'interno di un parco comunque ed ero supervisionato da un ente che era appunto il soccorso alpino e speleologico. Quindi decidemmo di installare una radio all'interno del campo per fare dei check randomici senza riferimenti temporali precisi con me che ero all'interno della grotta. Io avrei potuto usare la radio soprattutto, anzi unicamente quando ci fosse stata un'emergenza o se avessi deciso di sospendere l'esperimento. Era quindi il momento di creare un team che mi avrebbe dato appunto una supervisione anche da un punto di vista proprio della mia persona, quindi non solo dell'aspetto tecnico, non solo dell'aspetto legato alla grotta ma anche quello relativo alla mia salute. Quindi fu coinvolto il dottore Napoli del soccorso alpino e speleologico per farmi tutta una serie di test fisici e una serie di esami prima di stare in grotta. Fu coinvolto il mio grande amico Martino Locascio, regista e psicologo che non solo mi aiutò nella formazione psicologica prima di entrare in grotta ma avrebbe firmato poi come geologia di un sogno che è un po' questo esperimento narrativo, questo cortometraggio molto introspettivo che vi lascio ovviamente qua in descrizione. Martino mi disse non entra nella grotta se non ti senti pulito. Pulito ovviamente intendeva di testa perché è un'esperienza in cui molto probabilmente data l'assenza di azione e di input il cervello si creerà un mondo a parte, si creerà un mondo che non esiste, si creerà delle proiezioni, si creerà lui degli input. Ovviamente avevo anche un esperto, un amico che mi avrebbe controllato un punto di vista dell'alimentazione, Walter Gregorio che mi avrebbe appunto dato tutta una serie di alimenti che potevo utilizzare e anche conservare all'interno della grotta perché la conservazione degli alimenti per un mese ovviamente non è banale e ci sarebbe stato anche appunto un personal trainer che era Lorenzo Padalino che invece mi ha dato degli esercizi, proprio degli allenamenti da fare durante il giorno perché io comunque dovevo rimanere in forma, non potevo farmi trovare dopo un mese ridotto una larva ecco. Il campo era pronto, la grotta era messa in sicurezza, furono installate all'ultimo due batterie per permettermi anche di poter avere due lucine all'interno della grotta perché in oscurità totale probabilmente magari sarei diventata anche daltonico dopo un mese di oscurità totale comunque avrei avuto problemi alla vista una volta fuori e partì l'esperimento. Io entrai nella grotta del pidocchio la sera del 25 marzo, mi calai nella grotta, mi preparai il campo e andai a dormire. La prima notte fu un mezzo incubo perché l'aria era molto pesante, non riuscivo a respirare bene e avevo problemi di ansia anche perché era la prima notte, ho detto se devo farne 30 così non ce la farò mai. È stato un momento molto forte, c'è l'inserimento all'interno di un ambiente che si conosci perché ci si è stato dentro un paio di volte però è comunque un ambiente totalmente nuovo. La sfida era di creare dell'azione durante il giorno impedendo che la testa andasse troppo alla deriva. La giornata comunque cominciava sempre con una sveglia, io mi svegliavo, dormivo più o meno quanto volevo quindi facevo la mia colazione, poi mi davo una pulita al campo, mettevo a posto la brandina che era smontabile perché non c'era spazio nel campo per tenerla montata tutto il tempo e poi soprattutto non dormivo più fino alla mia sera. Bisognava tenere comunque la testa occupata. Avevo dei libri, avevo una chitarra che strimpellavo ogni tanto per sentire qualcosa di diverso dalle gocce che cadevano sul mio tarpo. Mi ricordo che piano piano, già dal primo giorno, cominciai a percepire un po' meglio, a capire un po' meglio l'ambiente in cui mi trovavo. Innanzitutto con la mia torcia e con la mia frontale cominciai a guardarmi in giro perché sì, la grotta più o meno l'avevo vista ma non l'avevo vista bene, almeno il mio campo. Quello sotto in realtà non l'ho mai visto, quello più profondo perché non sono mai sceso fin lì e mi sarebbe piaciuto ma non ho mai avuto nel tempo, diciamo così, la voglia di andare lì e soprattutto non potevo farlo quando ero da solo perché non mi potevo calare autonomamente e andare un po' su di sotto. Cominciai a fare delle camminate in giro, cominciai a disporre il meglio possibile i bidoni, tutto quello che mi serviva per la mia routine. Pulivo il più possibile il campo perché il campo, essendoci molto umidità, dovendo io uscire dalla zona asciutta spesso e volentieri, a volte magari sporcavo un po' la zona asciutta quindi dovevo dare una pulita, feci un calcolo dopo i primi 3-4 giorni di quanto avevo mangiato perché mangiavo abbastanza all'epoca, ero bello citrigno e mi accorsi che avevo già sbagliato quindi avevo finito le risorse, avevo finito gli alimenti alla seconda settimana quindi probabilmente avrei dovuto di chiedere un refill e di farmi calare con delle corde degli alimenti. Sin dalla prima notte io sognai di essere in grotta, disteso nella mia brandina, spesso e volentieri io sognavo di essere in grotta, quasi tutte le notti, e di vedere della luce che entrava nel pozzo, la luce del sole, che entrava nel pozzo, invadeva tutto il mio campo e mi sembrava una cosa da un lato bellissima, dall'altro molto strana perché dicevo ma come è possibile c'è tutto il suo sole qua dentro, cioè la grotta è praticamente al buio, no? C'era una resistenza da parte della testa rispetto a questa esperienza probabilmente quindi sognavo spesso di uscire dalla grotta, di vedere la luce, di trovarmi magari a casa dei miei o a casa di mia nonna e regolarmente qualcuno mi beccava e diceva ma scusa ma Igor ma tu non dovevi essere nella grotta? Anche mia nonna mi beccava fuori dalla grotta e mi diceva ma Igor ma dici che stavi nella grotta? Che è successo? Io lì morivo di vergogna perché avevo barato, no? Quindi mi svegliavo sudato freddo, dicevo no cazzo, meno male sono ancora dentro la grotta però mi svegliavo completamente al buio. Quando mi svegliavo non riconoscevo il fatto di essere sveglio ma pensavo di essere ancora, di stare ancora sognando e viceversa. Piano piano, soprattutto dopo, credo nei 5-6 giorni cominciò a essere sempre più sfocata la linea che separa il sonno dalla veglia. Altre volte ero in branda, stavo dormendo ma sognavo di essere sveglio e di fare delle cose. Quindi poi quando mi alzavo realmente dalla branda, magari facevo colazione avevo magari sognato di aver fatto già colazione, dicevo ma sto mangiando una seconda volta la memoria era come se avesse perso i punti di riferimento è come se il cervello si stesse creando delle situazioni che però io non riuscivo più a collocare temporalmente quindi era molto difficile per me capire se avevo appena mangiato, se avevo già mangiato se avevo dormito, quanto avevo dormito e se il sogno che avevo fatto era realtà oppure no. Per non impazzire decisi di scrivere tutto scrissi tutto in questo tacquino scrivevo, mettevo proprio delle tacche per riuscire a capire quando era passato per me un giorno quando avevo letto qualcosa mi segnavo il libro se avevo avvistato degli animali mi segnavo appunto l'avvistamento erano piccoli insetti tipo Jay verso la fine della prima settimana io cominciai a percepire come se fosse un respiro della grotta cioè quando fuori probabilmente pioveva o quando fuori c'era un cambio repentino di temperatura si sviluppavano delle correnti all'interno della grotta che mi portavano magari dell'aria fredda o dell'aria calda e questo per me è una cosa nuova e pian piano cominciai a capire che probabilmente questo era legato infatti al meto esterno piano piano cominciai anche a capire i ritmi diciamo fiziologici perché vi ho detto che c'era una latrina all'interno della grotta c'era questo bc chimico che io dovevo riempire con delle sostanze chimiche che ogni tot si riempiva e che dovevo appunto svuotare in un bidone all'interno del quale ci sarebbero stati appunto quelle che noi chiamiamo le acque nere quindi tutti gli scarichi un altro contenitore sigillato invece era per le acque bianche era tutto per l'acqua, non so, dei fagioni in scatola o dei liquidi che appunto venivano fuori dalla cottura di qualcosa io non potevo accendere fuochi quindi avevo un pentolino leggevo di grandi avventure ovviamente leggevo di spedizioni su Liger, leggevo i libri di Bonatti la grotta è un ambiente molto claustrofobico buio e comunque molto silenzioso pian piano il cervello ha bisogno di input e questo è stato il principale ostacolo secondo me della spedizione che ad un certo punto esattamente come aveva predetto Martino il mio amico psicologo la mia mente ha cominciato a ripescare da dentro delle informazioni, dei ricordi per avere un po' di carburante per tenere questo cervello in movimento quindi appena smettevo di leggere magari per fare una riflessione su quello che avevo appena letto dovevo stare molto attento perché la testa a un certo punto cominciava a fare dei ragionamenti che un po' come la palla di neve l'effetto snowball cominciavano a diventare pensieri sempre più grossi sempre più grossi, sempre più grossi, sempre più importanti quindi la testa si creava dei mondi in maniera estremamente veritiere estremamente realistica di cose che probabilmente non sarebbero mai successe io nella grotta ho imparato che a un certo punto questi eventi dovevo tenerli a guinzaio quindi dovevo evitare di diventare paranoico o entrare in una situazione in cui i miei pensieri mi avrebbero potuto seriamente fare del male in generale nella solitudine, nel wilderness, nell'isolamento risolvi un problema alla volta cerchi di avere la visione globale del tutto ma cerchi di evitare che i pensieri creino dei problemi su problemi su problemi che messi poi tutti insieme diventano, almeno a livello percettivo, insormontabili a un certo punto ho deciso di interrompere volontariamente i miei pensieri quindi di riportare la concentrazione su qualcosa da fare che poteva essere continuare a leggere che poteva essere pulire il campo che poteva essere farmi da mangiare io dovevo essere costantemente impegnato a fare qualcosa ovviamente il periodo più vulnerabile era il momento del sonno un momento molto sfocato in cui la memoria si intrecciava eventi che erano successi quel giorno quindi che tecnicamente avevo appena vissuto con eventi che erano già successi due o tre giorni prima con eventi che potevano succedere nei giorni dopo mi sembrava assurdo ma una delle condizioni una delle cose più che mi hanno salvato devo dire all'interno della grotta è stata leggere le barzellette di Totti adesso so che può sembrare stupido e non ho mai riso per cose così stupide nella mia vita come quando eri in grotta cioè a un certo punto non riuscivo proprio a fermarmi quindi grazie Totti per questa possibilità grazie per aver pubblicato le barzellette cioè sono talmente stupide io mi chiamo come è possibile eppure improvvisamente però cominciarono i casini perché verso la fine della prima settimana se non ricordo male e io non so perché è successa questa cosa cominciarono ad arrivare dei mosconi li sentivo da lontano perché pian piano la mia percezione il mio udito migliorava e diventava sempre più sensibile li sentivo ronzare da lontano e piano piano scendevano all'interno del pozzo all'interno della grotta prima uno poi due poi tre si infilavano all'interno della grotta e fondamentalmente venivano a morire nella grotta quindi non c'era neanche una logica a questa cosa qua se non che fossero stati attratti dalla grotta o risucchiati dentro poi non riuscivano più a tornare su l'unica luce che trovavano ero io era la mia frontale e quindi se stavo mangiando se stavo leggendo questi mosconi prima o poi avrebbero puntato la luce della mia frontale e mi avrebbero sbattuto nella faccia perché pensavano di uscire dalla grotta probabilmente scambiavano la mia frontale con il foro di uscita dalla grotta io mi trovai insomma come gli ignavi praticamente la divina commedia tempestata a mosconi in un ambiente in cui lo stress era già abbastanza forte e partì questa lotta da ninja contro i mosconi e ricordo che a un certo punto io li beccavo anche al buio cioè ero diventato talmente bravo che io li attiravo con la lampadina poi spegnevo la lampadina attaccavo il moscone lo prendo dal volo lo schizzavo da qualche parte e se ne andavo a morire male da qualche parte mi dispiace venire in moscone ma per me è la sopravvivenza e una mattina mentre ero in branda improvvisamente arrivò un boato come non da durto che arrivò e colpì il mio campo io ero in branda ero in quel momento vulnerabile di cui vi ho parlato in cui non sai se hai sognato una cosa o se è vera poi mi alzai cambiare le batterie della mia frontale perché ho detto qua si è successo qualche cosa cioè questo potrebbe essere un terremoto arrivò una comunicazione via radio mi segnalarono quindi che poco poco prima c'era stato un terremoto a largo di Ustica che è stato anche abbastanza forte percepito abbastanza chiaramente in città infatti avevano evacuato delle scuole la scuola di mia madre dove mia madre insegnava mia madre insegnante era stata evacuata infatti e quindi questa cosa mi mise molta ansia perché ho detto speriamo stiano tutti bene in realtà io mi sentivo abbastanza sicuro perché ero circondato da chilometri di roccia nell'immaginario collettivo io ero estremamente vulnerabile in quella situazione di terremoto e probabilmente l'ho rimasto murato vivo infatti il soccorso alpino per dovere ovviamente per questioni di sicurezza organizzò un'ispezione intanto nell'antro della grotta quindi diciamo così l'anticamera al pozzo che era la zona più vicina alla strada verificarono che non ci fossero stati di crolli o di distacchi mi chiesero a distanza se avessi visto qualche crepa nelle rocce lì in realtà io stavo entrando nel vivo dell'esperienza perché a un certo punto cominciai anche a capire come la grotta stava piano piano prendendo possesso anche del mio campo almeno questa era la mia percezione io mi sentivo sempre più parte dell'ambiente ipogeo cominciavo a sentire tra l'altro dei rumori che prima non sentivo stavo entrando in quello che è il cosiddetto stato di grazia essere assorbito dall'ambiente in cui ci si trova e pian piano diventare una completamente parte e soprattutto cominciai a sentire anche degli odori diversi l'odore della terra l'odore del fango cominciavo a percepire delle forme anche al buio totale buio pesto che prima non percepevo finalmente arrivarono gli ultimi giorni io ero 24 ore avanti quindi ero convinto il giorno prima della mia teorica uscita di essere già il giorno dell'uscita io ma perché non mi chiama nessuno perché non arriva nessuno mi hanno lasciato qua c'è stato questo momento di paranoia in cui ero quasi convinto che la gente mi avesse lasciato lì mi ero anche un po' rotto le palle di stare dentro la grotta per fortuna finalmente una mattina si accese la radio mi chiamano dalla radio mi dice ok Igor tra un tot di ore ti faremo a prendere l'esperimento è concluso mi ricordo il momento in cui ho visto scendere per la prima volta il primo operatore e ricordo l'odore cioè la persona era all'ingresso del pozzo quasi a 25 metri di distanza e io ne sentivo l'odore lì capì che diciamo i miei sensi erano veramente amplificati vennero diverse persone a controllarmi venne venne il medico il medico vide che aveva una pressione altissima anche la minima era altissima quasi da collaccio quasi da infarto contanto che non avevo mai sofferto di pressione probabilmente tutta questa serie di eventi la condizione c'era va causato in me un fortissimo stress non mi permisero quindi di uscire autonomamente mi dovevano praticamente parancare verso l'uscita del pozzo e mi diedero degli occhialoni da saldatore per evitare che appunto la mia vista molto sensibile dopo un mese di oscurità potesse essere appunto danneggiata che i miei occhi potessero essere danneggiati dalla luce solare perché sono uscito che era una bellissima mattinata di aprile era faceva caldo la natura era esplosa finalmente era molto diversa da quella che avevo lasciato a marzo c'erano i fiori c'erano un sacco di insetti c'erano i mosconi mi ricordo questa percezione globale di odori diciamo si fu come rinascere fu come in effetti ero nuovamente uscito da un buco quindi insomma uno dei miei primi pensieri fu chissà quanto deve essere terribile questa esperienza di isolamento per una persona che non si è volontariamente inserita in questa in questa esperienza che non ha volontariamente scelto di vivere quella condizione ma è stata forzata costretta a vivere con l'isolamento e con la reclusione spedizione non sarebbe mai stata possibile senza l'ausilio appunto del CNSS del parco Monte Pellegrino di tutte le persone che ci hanno aiutato quindi anche i forestali che ci hanno aiutato nel momento dell'uscita dal pozzo e quindi è stato tutto un concerto di persone di familiari che mi hanno supportato di quelli che non mi hanno detto semplicemente ma come fai a vivere nelle grotte che poi ci rimani male che ti scarichi la batteria non c'è da mangiare è stato un insieme di collaborazioni di amicizie al 95% di matrice siciliana di cui sono molto orgoglioso alla fine sono comunque riuscito a vivere un'esperienza in solitario ma comunque accompagnato da grandi amici noi ci sentiamo la prossima volta con un nuovo video una nuova avventura di solito metto le votazioni su Instagram quindi seguitemi anche su Instagram che magari potete interagire un po' meglio con me ci possiamo vedere anche su Patreon se volete supportare questo canale e avere accesso a dei contenuti che sono più sul making of del mio lavoro di quello che faccio per vivere videomaker documentarista e se avete a cuore la sicurezza in montagna donate il 5x1000 al soccorso alpine spirologico perché sono veramente degli angeli sulle nostre teste noi ci sentiamo alla prossima ciao